Amici sportivi di Telegenova, buonasera, ben ritrovati con Liguria Sport Magazine, il nostro contenitore dedicato al mondo sportivo Ligure, come sempre in un weekend ricco di eventi e di appuntamenti. Questa sera vedremo di tracciare un bilancio, di approfondire determinate tematiche parlando in particolare di rugby, di ginnastica ma anche di taekwondo e di canottaggio, di un canottaggio speciale. Allora come sempre la buona serata al collega Marco Callai dalla redazione di LiguriaSport.com, ciao Marco. Buonasera a te Michele, un weekend davvero ricchissimo, parleremo anche poi di pallanuoto e di vela. I nostri ospiti, il presidente del CUS Genova Mauro Nasciuti, gradito ritorno, buonasera Mauro. Buonasera. Per parlare di Taekwondo, Pietro Fugazza, presidente della scuola Taekwondo Genova, riparte una stagione ricchissima di appuntamenti. Ciao Pietro, buonasera. Buonasera a tutti. Riparte la stagione della ginnastica, allora il quadro con il presidente del Comitato Ligure e della Feder Ginnastica, Pino Raiola. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti. E poi parleremo di un canottaggio speciale, di un'iniziativa molto molto bella, firmata dal Rotaract Club Genova e con noi il presidente Valeria Abate. Buonasera. Buonasera a tutti. Marco, inquadriamo il weekend. Risultati più importanti, insomma, che cosa ti ha colpito? Sì, mi ha colpito il momento nero del basket regionale. Ha vinto sì nella B di Lettanti di Viera Vado Ligure, una partita contro la Stella Azzura Roma di misura 88-85, però prosegue la crisi nella C di Lettanti. Ne parleremo poi comunque meglio in seguito, osservando le immagini. Poi ci sono anche buone notizie che provengono anche dall'atletica. La convocazione, poi Nasciuti potrà essere più preciso, la convocazione di Emma Quaglia per i mondiali di mezza maratona che si terranno domenica prossima a Birmingham. Insomma, comunque un weekend positivo. Allora vorrei, mentre come sempre potrete aggiornarvi su tutte le news dello sport Ligure, sul nostro portale ligureosport.com e qui ovviamente in sottoimpressione nel nostro crawl di questa sera, vorrei andare a inquadrare quello che è stato il weekend del volley, come sempre con le immagini in copertura di Unigo Carige che ha firmato un tris importante in casa, alla pala da monte di Cogoleto, la formazione di Orasio Del Federico è riuscita a conquistare il terzo successo consecutivo. Noi qui vediamo ancora un po' di immagini e di repertorio nel Palacus, Unigo che è cambiata parecchio. Ci sono stati due ritorni importanti, quelli di Davide Manassero, lo storico capitano dell'anno della promozione in Serie A2, ma è tornato anche e soprattutto quel centrale Paoletti che l'anno scorso ha accompagnato in A2 il Quasar Massa. Quest'anno è ritornato al Ligo Carige per cercare di ripetere l'impresa. È un tris di vittoria che dà morale alla formazione di Del Federico e di Claudio Agosto, ma è soprattutto un tris che conferma quanto di buono fatto dal presidente Fucini e dal direttore sportivo Augusto Bruschettini. È un girone, quello di quest'anno, nuovo, assolutamente da conoscere Marco, perché le avversarie non sono più le solite, Lombardo-Piemontesi, ci sono tutte le squadre migliori del centro Italia, con avversarie di prestigio assoluto come per esempio Macerata. E proprio il Golden Plast Macerata ieri è stato battuto in modo sofferto, ma importante per 3-1. Sarà importante, Michele, mantenere alta la concentrazione per tutto il campionato. Lo scorso anno questi cali, Ligo Carige li ha pagati cari, non è stato poi facile recuperare e combattere, quindi per la promozione che immagino sia l'obiettivo di quest'anno. Play-off, promozione, questo è quantomeno quello che i dirigenti bianco-blu continuano a ripetere, non si sono mai nascosti, sono ormai tre stagioni che puntano alla 2, per un motivo o per l'altro il risultato non è arrivato, quest'anno con un po' di cautela dicono almeno rimanere nelle prime tre piazze, che sono quelle che consentono, con il primo posto, la promozione diretta in A2, con il secondo e il terzo piazzamento, l'accesso ai play-off. Bene Ligo, bene anche finalmente la Normac Alta Valbisagno pro Gigi Ghirotti, la matricola del volley femminile in serie B2, la squadra del presidente Carlo Mangiapane è riuscita a portare a casa il primo successo stagionale dopo le due sconfitte in gara 1 e in gara 2, è una vittoria importante, quella che è arrivata sabato sera nel palazzetto di Prato, al cospetto di un avversario a Lombarda, quindi tosta per assolutamente antonomasia, un girone particolarmente duro, quello delle genovesi, che sono la loro prima esperienza assoluta e per di più in un inizio di stagione che le vede prive di due elementi importanti come la Mastro Marino e soprattutto Alice De Gasperi. Insomma, buone notizie per Mario Barigione, il tecnico di questa Normac, che porta a casa i primi tre punti. In attesa che scende in campo anche la terza genovese nei campionati nazionali, ovvero l'Asserteco, che intanto in Coppa Italia ha conquistato un punto, sconfitta soltanto 15-13 al tie-break, sul campo amico dal Vigonzone Piacenza, in settimana, mercoledì sera, la trasferta di Vigevano, e sabato la gara di ritorno, sempre con il Vigenovo, ore 17 al Pala Diamante. Da segnalare, infine, per questa carellata di volley, il primo successo anche per la Cole Cole Spezia in B1 maschile, ed è sicuramente una buona notizia per la squadra assai giovane portata in campo dalla Cole Cole in questa stagione difficile, una scelta che è stata fatta per motivi di bilancio, ma i giovanissimi della Spezia sono riusciti a conquistare il primo successo. Voltiamo rapidamente pagina e dal volley passiamo al rugby. Era un momento importante, l'esordio stagionale per il Cus Genova. Caro Presidente Nasciuti, direi che chi ben inizia, non so se siete già a metà dell'opera, ma può sicuramente essere soddisfatto. Avarese, esordio e vittoria subito per il Cus. Beh, non abbiamo giocato benissimo e questo però è un segnale positivo, in quanto dopo il primo tempo la squadra, mi dicono perché io non ero Avarese, che ha sofferto un po' dal punto di vista fisico. L'anno scorso avevamo fatto un'analoga partita, però avevamo perso. Quest'anno abbiamo vinto nettamente. Insomma, crediamo nel progetto che può portarci a lottare per la promozione. Cosa può dare il tecnico Jan Snook alla seconda stagione? Beh, innanzitutto è uno così carismatico che non fa andar via i giocatori buoni e semmai fa sì che i giovani vogliano rimanere con noi. E questa è già un'inversione di tendenze importante. E poi sta impostando anche veramente il lavoro tecnico di tutte le squadre giovanili, quelle della famosa scuola Scarpiello, che è la produzione di giocatori più importante che abbiamo, visto che le risorse economiche sono quelle che sono. Insomma, Jan sta dando un assetto tecnico a tutta la società e non solo alla prima squadra. Nella prima squadra ho notato una grande sintonia tra lui e tutti i giocatori e io spero veramente che ci sia la saldezza per portare avanti tutto il campionato fino alla fine. Valorizzare il vivaio quindi in primo luogo perché in Serie B, lo possiamo dire con tranquillità, il Cus Genova gareggia contro squadre che hanno risorse e mezzi superiori. Beh, di solito chi tira la promozione fa quei 4 o 5 acquisti che poi diventano determinanti perché li fa specie guardando all'estero. Noi di stranieri ne abbiamo uno ed è uno studente universitario. Però i nostri giovani sono comunque tra i migliori d'Italia come a livello di under 20 facciamo il campionato nazionale, ne siamo orgogliosi e siamo competitivi con chiunque. Intanto tra le varie notizie che vi stiamo continuando a dare ovviamente un applauso ad Armando Sanna che dopo aver vinto Caruggi in Cursa si è ripetuto nella mezza di Novi. Ovviamente parliamo di Cus e quindi parliamo di tante discipline. Tra poco magari entreremo anche in quella che è la stagione universitaria al Via e giovanile. Per quello che riguarda il rugby c'è un sogno particolare, un obiettivo particolare dei giovani su cui puntate con attenzione. Ma guarda, per quanto riguarda la prima squadra non ci sono assi che possano un domani tanto per essere onestamente sinceri, che possano un domani vestire la maglia azzurra della nazionale A. A livello giovanile vorremmo continuare a fornire il solito apporto alle nazionali under varie e questo lo faremo. Il sogno della squadra e di tutto l'ambiente è in tempi brevi, lo dico e lo ripeto, di andare in A2 e di poter giocare ovviamente. Questo credo che sia nel cuore di tutti in un impianto degno non solo per le partite, perché la sciorba per le partite va benissimo, ma anche per gli allenamenti dove fatichiamo francamente a giocare sul Carlini. Il tema impianto lo approfondiamo nella seconda parte, è assolutamente centrale, credo non solo per l'intensa e importante attività del CUS, ma per tante federazioni sportive e ne parleremo ovviamente anche con Pino Raiola. Però come sempre nel primo blocco esauriamo i risultati del weekend, abbiamo visto nelle nostre informazioni che all'Andrea Doria nel weekend c'è stato un primo appuntamento importante per quello che riguarda la ginnastica a livello di categoria e specialità dell'artistica. Come è andata?